C'è malcontento da parte della vostra categoria per la differenza che c'è adesso tra Slovenia e Italia come benzina e diesel oppure si va avanti e basta? Il malcontento c'è, si va avanti però noi non possiamo fare niente, ci siamo accorti comunque che chi vuole andare in Slovenia va in Slovenia, chi vuole fare sempre in Italia fa in Italia, chi fa un po' di qua un po' di là fa un po' di qua un po' di là, c'è stato un calo non grandissimo ma un calo c'è stato. Dopo essere stati in Slovenia qualche giorno fa per vedere le file di macchine italiane che tornano a visitare i benzinai, visto il prezzo favorevole rispetto all'Italia dopo il mancato rinnovo del taglio sulle accise, oggi la troupe di Tele4 ha fatto visita alle pompe di benzina triestine. Vedete questi sono i prezzi del carburante, come potete vedere 1,799 self service, 1,99 invece servito per la benzina, oltre 2 euro, poco oltre 2 euro, quasi 2.1 per il diesel. Vi aspettate che col super bonus rinnovato e con nuovi sconti statali si possa ritornare ai livelli di prima? Allo Stato, che le compagnie hanno detto che a breve succederà qualcosa, di preciso non sappiamo, vediamo quello che viene ecco. Cambiando distributore la situazione cambia poco, i prezzi sono più o meno gli stessi, chi sorride un po' di più sono coloro che hanno la tessera regionale per usufruire dello sconto. Lei non va a far benzina in Slovenia quindi? No, col motorino no, non mi conviene. Però con la macchina? Ma dipende, dipende, tante volte, adesso non lo so quanto è neanche il cambio. Adesso è 1,3, 1,4 in Slovenia la benzina, si è ampliata di nuovo la differenza? Ok, adesso conviene, non può, però giro poco con la macchina. Lei ha la tessera regionale? Sì, sia per la macchina sia per il motorino. Già quello è un buono sconto no? Certo, certo, mi aiuta, ci aiuta. Sei preoccupato per i nuovi rincari dei prezzi oppure si va anche a sensazione a momenti? Sono preoccupato per i tempi che viviamo. Tra crisi, guerre e tutto il resto? Appunto.